Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi con il mio 80esimo video su Elden Ring che troverete una playlist piena di tutorial che vi potrebbero servire sul mio canale oggi vi mostro come sbloccare questo boss del cervo qua celestiale quindi basta che accendiamo questi 8 pillaroni che si trovano qui a Noxtella quindi se volete arrivare qui a questa terra ce ne sono parecchie di guide su youtube io in questo tutorial vi spiego solamente dove trovare questi pillaroni come accenderli e poi come sbloccare il boss quindi quello del cervo quindi seguite questo passaggio fino all'ultimo pillarone da accendere e poi ritorniamo lì al tempio e niente tocchiamo il cervo e ci teletrasporterà nella sua caverna ok dove dobbiamo così ucciderlo e ci tropperà anche qualche spirito ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto io e lui siamo uguali. Do qualche colpetto. Ah, questa è la sua mossa. Ok. Do qualche colpetto anch'io. Ok, lui. Mi fa pena sto cervo. Questo fa. Attenzione alla mossa con le zambe posteriori. Et voilà. Quindi ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di lasciare un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring. Ciao.